Kotal Kahn che sembra Conan però. Da Kotal Kahn non lo sopporto. Raka? Sempre stato un personaggio problematico per me. Eccolo là, cominciamo. Porca troia. Di nuovo, mi ha fottuto di nuovo. Mi fotte sempre all'angolo. Guardalo. 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 Non conosco la combo. Mi sono dimenticato tutto. Ma infatti questi giochi non sparsano, ma poi da roba. Ma ma mia. Ah, è più veloce di me. Ah, cazzo. Oh, cazzo. lagga pure. Questa è sicuramente molto meglio di me. Cioè ti stunna pure quando finisce la combo. Ma non lo prende neanche. Ma no male che finita va. Ammazza che schifo. Lo sto prendendo cara Gracie. Vabbè diciamo che non gioco mai. Ma Fabi ci devi giocare spesso. Eh lo so ma anche perché se non conosci gli altri personaggi non riesci a capire cosa fanno e cosa non fanno. Poi non mi ricordo neanche le mie combo. Mi manca una posizione di riflessi.